Il Museo Archeologico Nazionale Etruschi di Frontiera a Ponte Cagnano-Faiano ha ospitato la presentazione del volume In alto i cuori avanti sempre, in memoria di Amedeo Moscati. Alla presentazione hanno preso parte insegni studiosi che hanno discusso del valore della pregevole opera. Questa pomeriggio presentiamo un libro, il libro del primo sindaco di Ponte Cagnano-Faiano, Amedeo Moscati. C'è una grande partecipazione, un grande entusiasmo, una raccolta di foto, di storie inedite. Parlano della nostra tradizione, della storia di Ponte Cagnano-Faiano, della sua Costituzione. Quindi è un volume molto importante, molto bello da leggere con grande attenzione, con grande passione. ed è sicuramente anche la conclusione di questa esperienza del primo mandato che ci ha visto protagonisti, che ha visto soprattutto mettere di nuovo al centro la comunità, la vita dell'ente. Un ente che deve essere visto come una casa di vetro, che deve essere sempre di più valorizzato e soprattutto deve ritornare a coniugare quella passione, quella voglia di partecipazione che parte dal basso, dai cittadini, come lo era all'inizio, come lo era con Amedeo Moscati.